Quando l'abbattimento della sala Tripkovic andava delineandosi e mano a mano che esso diventava sempre più concreto fra gli addetti ai lavori e i triestini si andava facendo sempre più pressante una richiesta che il comune cioè ricordasse la figura di Raffaello De Banfield. Palazzo Sipario ha raccolto in qualche modo l'informale richiesta e la giunta ha deciso di intitolare alla memoria del musicista e imprenditore la sala del teatro Verdi. Credo che ricordare Raffaello De Banfield sempre all'interno del teatro con un'intitolazione che stiamo valutando con il sindaco che è anche presidente della fondazione e con il sovrintendente Polo credo possa essere un bel gesto corale da parte della città e dei cittadini. Nelle intenzioni del sindaco vi ha anche l'idea di posizionare un busto di De Banfield nel foyer del teatro. Lo stiamo valutando quindi vediamo un attimo cosa riusciremo diciamo a fare sul discorso del posizionamento del busto che ha bisogno di spazi adeguati. Ciò cui fa riferimento l'assessore è il fatto che sulle pareti del foyer del Verdi non vi è spazio per un ulteriore busto ma con tutta probabilità una soluzione verrà trovata. Non è tutto un altro grande della cultura non solo triestina verrà ulteriormente celebrato con tutta probabilità attraverso il posizionamento di una statua in cammino. Giorgio Streler. Che ha già una via intitolata ma personalmente vedo con favore il posizionamento di una statua così come è stato fatto in analogia con Saba, Joyce e Svevo proprio perché è stato un grande protagonista non solo del teatro ma anche della letteratura del novecento e ne avevamo parlato con l'assessore Rossi proprio in occasione del centenario l'anno scorso della nascita di Streler.